Che fosse pericolante era noto che potesse crollare da un momento all'altro ampiamente prevedibile, tanto che è bastato il nubifraggio del fine settimana per dare il colpo finale. Così il ponte di collegamento nei pressi della foresteria, quello che si trova all'interno di Parco Manganelli ad Avellino, è venuto giù. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni proprietari terrieri che spesso utilizzano il passaggio per raggiungere le campagne. Ai cronisti raccontano che da mesi avevano segnalato alle autorità lo stato fatiscente del ponte. Segnalazioni rimaste in evase. Fortunatamente nessuno stava attraversando il ponte al momento del crollo. Poteva essere una tragedia. Sul posto da questa mattina operai al lavoro per transennare l'area e mettere in sicurezza la zona. Parco Manganelli è da sempre al centro di polemiche. Quello che doveva essere il polmone verde del capoluogo, oltre ad essere rimasta un'incompiuta, versa in uno stato di abbandono. Diversi fabbricati, degradati e diroccati, frequenti gli assalti di vandali e balordi.